Grazie a tutti. Ok, c'è il pubblico e te per prima che sei quella che devi capire le cose. Annalisi per capire esattamente come spiegare ciò. Non guardare dritto negli occhi a lei, a guardarti attorno perché stai guardando dentro di te, non è importante quello che vedi all'esterno. Ma più che altro per vedere come il sogno, non è che vogliamo... Quindi secondo me dobbiamo fare una valutazione quando si faranno... C'è una cosa che si faceva, di tradizioni, di oggetti che venivano poi esposte. È un po' più protagonista del... C'è un po' di preparare sempre due, quindi per cercare di mettere nella posizione... C'è un po' di preparare sempre due, quindi per cercare di mettere nella posizione... C'è un po' di preparare sempre due, quindi per cercare di mettere nella posizione... Lei da piccola in casa... 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 Lei da piccola in casa...